Vede? Fottute siamo. Bene, vai. Controlla gli altri. Ma no, scusa, ragioniamo un momento, Francesca. Eh? Anche se io volessi. Dopo quello che è accaduto con Caterina, non credo che lei vorrà più. Oh, Caterina, ci penso io. D'altronde il vosso deve essere soltanto un rapporto d'affari. Caterina avrà la sua eredità e tu riavrai le tue cambiali. Eh, magari. Ma lo sai quante sono le mie cambiali? Eh, quante sono? Cento milioni sono. E allora, i purosangue per questo si pagano. Che c'entra? Io mica sono un cavallo. Comunque, fanno la stessa cosa. Non esattamente. Tieni, il pigiama di mio genere. Del defondo. Eh. Mi fai impressione. Ma che saggiorazione, è pulito, sai. Sa, è morto. Tanto poi te lo levi. Mi fa un certo senso. Taglia e le pantofole. Tutto il resto lo trovi nel bagno, eh. No, scusa, guarda, riprenditi questa roba, io non ce la faccio. Non me la sento, io preferisco fallire, andare in galera.